Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Remo Bertinelli che vi parla e da Dino Cecconi, regista della Santa Messa, oggi in onda da Fabriano. Una città famosa, oltre per i suoi personaggi, per la produzione della carta. Un lavoro sviluppato da artigiani attraverso i secoli, nell'impasto di tessuti e nel duro mestiere. Quello che evidenzia la maestria di quest'arte è la filigrana, dove l'immagine, plasmata tra le fibre della carta, ha reso preziosa questa attività. Anche qui a Fabriano, tra cultura, arte e lavoro, si celebra la giornata nazionale per la vita. Mentre la scarsità del lavoro industriale mette in difficoltà molte famiglie, l'amore continua a procreare e la natura è assidua nel produrre frutti preziosi. L'arte, lungo i secoli, ha esaltato questo dono divino. Il cuore di questa città non raccoglie solo la dimensione materiale, ma soprattutto quella dello spirito. A Fabriano tre conventi di clausura danno ossigeno alla società. Chi si sente povero riscopre l'essenziale. Nel monastero, scuola di vita, la persona orienta tutta se stesso verso Dio. La vita ha sempre saputo conquistare luoghi all'apparenza impervi lungo le valli sinuose di questa terra marchigiana. Tra le sue rocce dimora l'aquila reale e nel grembo delle montagne la natura ha tenuto celata per lunghi millenni una cattedrale costruita silenziosamente dall'acqua con percorsi che conducono alla ricchezza del cuore. Mentre le grandi grotte esistevano già, senza che nessuno le avesse scoperte, dei ricercatori di Dio hanno trovato in questa gola intorno all'anno 1000 la via della trascendenza e si sono rigenerati nello spirito. Uno di loro, San Silvestro di Osimo, maturò qui la scelta di generare una famiglia di monaci. Realizzato il suo progetto, su questa montagna eressero il monastero. Le spoglie del loro padre restano tutt'oggi come segno di costanza. Nello stesso periodo è vissuto un monaco ravennate, Romualdo, che dopo un lungo peregrinare con sosta a Monte Cassino, continuò il suo cammino fondando numerosi eremi e infine a Camaldoli eresse il faro della spiritualità eremitica. Instancabile strumento di Dio, giunse in questa terra fabrianese e in Val di Castro, dove costruì il suo eremo e poi il monastero, terminando qui la sua vita terrena. Il suo corpo, dopo essere stato trafugato, fu portato a Fabriano, nella chiesa di San Biagio nel 1481, dove ancora oggi è venerato. Questa chiesa eretta dei monaci benedettini all'inizio del 1200, subì lungo i secoli vari danni, specialmente a causa di terremoti, ma fu sempre recuperata e dal 1600 è un monastero di monaci camaldolesi. Nel 1748 venne costruita la cripta, che da allora conserva le spoglie del santo monaco eremita. La chiesa è dedicata a San Romualdo e San Biagio, di cui oggi ricorre la festa. Ricordando l'esempio di questi maestri di vita, insieme celebriamo la liturgia. L'interno è accogliente, luminoso e prezioso. La sua architettura testimonia varie epoche, ma in particolare raccoglie la migliore espressione del tardo barocco marchigiano. Un prezioso organo, calido di fine 1700, accompagna le lodi al Signore, dei fedeli che con il battesimo entrano nell'assemblea. Un ricco fonte battesimale ricorda l'impegno di vita ad ogni cristiano. La liturgia di oggi apre la riflessione sulla conoscenza di Dio e sulla conoscenza dell'uomo. L'incontro con la parola rivela all'uomo chi egli è, quale sia il senso della propria vocazione. Soltaci, Signore, Dio nostro, e accogliaci da tutti i popoli. Del te proclamiamo il tuo santanone, e ci gloriamo della tua nata. Presede la liturgia Monsignor Giancarlo Vecerrica, Vescovo di Fabriano Matelica, con celebrano Monsignor Alfredo Zuccatosta, parroco della Cattedrale di Fabriano, Don Alberto Castellani, parroco dei Santi Biagi e Romualdi. Il coro diocesano è diretto dal maestro Giuseppe Papaleo, all'organo il maestro Sauro Argaglia. Il servizio liturgico è dei ministranti della parrocchia della Cattedrale. Grida di risultati, grida di risultati, un cappi di gioia, un cappi di gioia. Il servizio liturgico è dei ministranti della parrocchia della Cattedrale. Padre, del Figlio e del Santo, la pace sia con voi. In questa Chiesa dei Santi Biagi e Romualdo, simbolo della ricostruzione dopo la devastazione del terremoto del 1997, in cui vi morì una mamma, dieci anni fa vi feci il mio primo ingresso come Vescovo, ed oggi qui celebriamo la giornata per la vita, per impegnarci nella sequela di Cristo via verità e vita. Domandiamo ora perdono per i nostri peccati. Il servizio liturgico è dei ministranti della parrocchia della Cattedrale. Il servizio liturgico è dei ministranti della parrocchia della Cattedrale. l'Occchia della Cattedrale. Il servizio liturgico è dei ministranti della parrocchia della Cattedrale. figlio del Padre tu che togli i mercati del mondo abbi e dà di noi tu che togli i mercati del mondo accogli la nostra subita tu che sia la resta del Padre abbi e dà di noi perché tu sono il Santo tu sono il Signore tu sono il Santissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre Preghiamo Dio grande e misericordioso concedi a noi i tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare i nostri fratelli nella carità del Cristo Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli Amén Dal libro del profeta Geremia Nei giorni del Reggio Sia mi fu rivolta questa parola del Signore Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato Ti ho stabilito profeta delle nazioni Tu dunque stringi la veste ai fianchi alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò non spaventarti di fronte a loro altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro Ed ecco Oggi io faccio di te come una città fortificata una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese contro i re di Giuda e i suoi capi contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese Ti faranno guerra ma non ti vinceranno perché io sono con te per salvarti Parola di Dio E la mia grazia è Dio La mia bocca Signore racconterà la tua salvezza La mia bocca Signore racconterà la tua salvezza In te Signore mi sono rifugiato mai sarò deluso per la tua giustizia liberami e difendimi tendi a me il tuo orecchio e salvami La mia bocca Signore la mia bocca Signore racconterà la tua salvezza Sii tu la mia roccia Sii tu la mia roccia una dimora sempre accessibile hai deciso di darmi salvezza davvero mia rupe e mia fortezza tu sei mio Dio liberami dalle mani del valvagio La mia bocca Signore racconterà la tua salvezza Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli desiderate intensamente i carismi più grandi e allora vi mostro la via più sublime Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi la carità sarei come bronzo che rimbomba o come cimbolo che strepita E se avessi il don della profezia se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza se possedessi tanta fede da trasportare alle montagne ma non avessi la carità non sarei nulla E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto ma non avessi la carità a nulla mi servirebbe La carità è magnanima benevola è la carità non è invidiosa non si vanta non si gonfia d'orgoglio non manca di rispetto non cerca il proprio interesse non si adira non tiene conto del male ricevuto non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità tutto scusa tutto crede tutto spera tutto sopporta la carità non avrà mai fine le profezie scompariranno il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà infatti in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo ma quando verrà ciò che è perfetto quello che è imperfetto scomparirà quando ero bambino parlavo da bambino pensavo da bambino ragionavo da bambino divenuto 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 uomo o eliminato ciò che è da bambino adesso noi vediamo in modo confuso come in uno specchio allora invece vedremo faccia a faccia adesso conosco in modo imperfetto ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto ora dunque rimangono queste tre cose la fede la speranza e la carità e di tutte e la carità parola di Dio vediamo grazie a te alleluia 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 il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il vieto annuncio a procra a procra meri prigionieri la liberazione alleluia alleluia il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca in quel tempo Gesù comeciò a dire nella sinagoga oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscevano dalla sua bocca e dicevano non è costui figlio di Giuseppe ma egli rispose loro medico cura te stesso quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao fallo anche qui nella tua patria poi aggiunse in verità io vi dico nessun profeta è bene accetto nella sua patria anzi in verità io vi dico c'erano molte vedove in Israele nel tempo di Elia quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese ma nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova a Sarepta di Sidone c'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo ma nessuno di loro fu purificato se non a Aman il Siro all'udire queste cose tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù ma egli passando in mezzo a loro si messe in cammino parola del Signore parola del Signore oggi siamo chiamati cari fratelli e sorelle a scoprire il senso della vita per non sprecarla un mese fa ero a Nazareth con un gruppo di giovani mi sono commosso nel trovarmi nel luogo dove Gesù è vissuto per trent'anni e lì mi è stato indicato il monte del precipizio da dove i nazaretani volevano gettare giù Gesù quante volte ci mettiamo sui precipizi e quante volte abbiamo tentato anche noi di gettare giù Gesù perché non eravamo soddisfatti di lui ma egli passando in mezzo a loro si mise in cammino Gesù ama camminare in mezzo a noi questo particolare dell'episodio di Gesù che visita la sinagoga di Nazareth ci ripone davanti a lui per riaprire il dialogo Gesù non precipita mai ma cammina cammina perché vuole restare con noi Gesù è venuto per annunciare a tutti la sua liberazione capire la vocazione di Gesù è capire la nostra vocazione che è collaborazione con la sua missione Gesù va a Nazareth per spiegare che lui è il Messia e infatti proclama oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato a questa vocazione messianica di Gesù ci ha preparato il profeta Geremia il quale presenta la sua vocazione usando un linguaggio da battaglia è una vocazione da lotta contro la mentalità chiusa infatti invita i suoi destinatari a prendere inevitabilmente posizione ti faranno guerra gli dice Gesù ma non ti vinceranno con te per salvarti di fronte di fronte a questa vocazione da battaglia del profeta Geremia che preannuncia Gesù liberatore anche noi siamo chiamati a prendere posizione come come hanno fatto le persone indicate da Gesù nel Vangelo la vedova di Sarepta e il lebroso Naam i quali si sono affidati ai profeti come ha fatto la Madonna che si è immessa nella vocazione di Gesù come hanno fatto i Santi facendo risplendere la loro vocazione alla luce della presenza liberatrice di Gesù come ha fatto San Biagio di cui oggi qui celebriamo la festa ogni domenica carissimi ogni domenica nelle nostre chiese accade lo stesso avvenimento vissuto nella sinagoga di Nazareth Gesù annuncia la sua liberazione e noi siamo chiamati a rispondere con la nostra vocazione che è il sì a lui che ci chiama a seguirlo come hanno fatto la Madonna e i Santi ogni domenica ci troviamo di fronte a questa domanda gettare Gesù dal precipizio della vita o accoglierlo io sono solito dire che nelle famiglie la domenica non è giorno di silenzio per dormire ma è giorno di impegno caloroso e vivace di tutta la famiglia per andare a incontrare Gesù nell'Eucarestia domenicale così deve accadere anche quando qualcuno ha bisogno di noi come il tema della carità di San Paolo ci ha descritto allora è Gesù che in quella persona bisognosa ci viene incontro e c'è la domanda come accolgo la vita dell'altro che rappresenta Gesù per me oggi o generare la vita vince la crisi indetta dai vescovi italiani per affrontare la vita con le sue crisi come l'attuale situazione della mancanza del lavoro non possiamo non tener conto della presenza di Gesù unico liberatore è lui che ci mette in questa vocazione di vera liberazione l'ostilità dei concittadini nei confronti di Gesù non è in grado egli passa in mezzo a loro e si mette in cammino così anche noi oggi di fronte alle tante avversità che in vario modo minacciano la nostra vita non abbiamo la pretesa e l'illusione di scansare gli ostacoli ma possiamo passarci in mezzo forti dell'invincibile speranza del messaggio evangelico in questo anno della fede siamo chiamati a riconoscere e annunciare Gesù a riportarlo in mezzo a noi per riprendere la lotta e per ridare speranza alla nostra vita come ci esorta San Paolo mi protendo nella corsa per afferrarlo io che sono già stato afferrato da Cristo le iniziative di questo anno della fede nella nostra diocesi come la recita del credo in famiglia all'ora di cena gli incontri parrocchiali dei mercoledì della fede e gli incontri mensili in cattedrale con dei maestri della fede ci aiutano a rilanciare la nostra stupenda vocazione a riconoscere Gesù in mezzo a noi come il vero liberatore di tutti i mali amico oggi tu come rispondi a questa chiamata di Gesù anche tu come i nazaretani lo tieni fuori dalla vita Gesù ti chiama appassionatamente come dice a San Giovanni Crisostomo io ho lasciato il padre mio e sono venuto a te tu mi odiavi mi fuggivi io ti ho inseguito ti ho legato a me ti ho tenuto stretto ti ho abbracciato sono disceso sulla terra non solo per mescolarmi tra quelli della tua gente ma per abbracciare stretto proprio te e che sia così per te ame credo in un solo Dio padre omnipotente creatore del cielo e della terra di tutte le cose visibili e invisibili credo in un solo Signore Gesù Cristo il tuo figlio nato dal padre prima di tutti i secoli io da Dio luce da luce Dio vero da Dio vero generato non creato della stessa sostanza del padre per mezzo di lui tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine e si è fatto uomo fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture è salito al cielo siede alla destra del padre e di nuovo veva nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal padre e dal figlio e con il padre il figlio è adorato e ha parlato per mezzo dei profeti credo la Chiesa una santa cattolica apostolica professo un solo battissimo per il perdono e i peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che la va amo fratelli e sorelle Gesù è colui nel quale si compiono le promesse di salvezza egli continua a rivelarci il disegno d'amore del padre perché possiamo essere profeti di speranza preghiamo insieme e diciamo signore esaudisci la nostra supplica signore esaudisci la nostra supplica per i pastori della Chiesa e per tutti i ministri del Vangelo perché si riscoprano profeti di salvezza e non si scoraggino dinanzi al rifiuto preghiamo signore esaudisci la nostra supplica per la nostra nazione che oggi celebra la 35esima giornata per la vita perché la crisi economica non oscuri la fiducia nei valori che edificano rispettano e salvaguardano il dono della vita preghiamo signore esaudisci la nostra supplica per coloro che ci governano perché riconoscano e promuovano la vita adoperandosi per la dignità ed i diritti di ogni essere umano soprattutto dei più deboli e indifesi preghiamo signore esaudisci la nostra supplica per tutti i lavoratori per chi ha perso o è in ansia per il posto di lavoro per i giovani affinché non si abbandonino alla sfiducia a causa della crisi ma trovino nell'impegno e nella solidarietà la forza per superare le attuali difficoltà preghiamo signore esaudisci la nostra supplica per tutti noi perché sappiamo superare divisioni e conflitti esercitando l'insegnamento della carità l'unico che può donare un senso alla nostra vita preghiamo signore o cristo signore che hai offerto la tua vita per gli uomini apri i nostri cuori all'amore del padre e rendici capaci di essere profeti del tuo amore nel mondo tu che vivi e regni nei secoli dei secoli san paolo sottolinea che nella carità l'uomo rivela se stesso l'amore si concretizza nella prassi della carità ciò che abbiamo ricevuto lo si valorizza donando ogni eucaristia ci fa partecipare al gesto più grande dell'amore Cristo che si dona per noi il nostro partecipare richiede donare questo è il nostro fatto che era spazzo per i conti che era colpo e diventato un solo padre così si raccolta la tua chiesa dai confini della terra nel tuo regno regate e sorelle perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente accogli con bontà o Signore questi doni che noi tuo popolo santo deponiamo sull'alpare e trasformali in sacramento di salvezza per Cristo nostro Signore amén il Signore sia con voi e con il tuo spirito in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore rendiamo grazie al Signore nostro Dio è cosa buona e giusta è veramente cosa buona e giusta nostro dovere fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te Signore Padre Santo Dio Onnipotente ed Eterno abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo figlio a prendere su di sé la nostra debolezza in lui nuovo Adamo hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale per mezzo di lui si alietano gli angeli e nella eternità adorano la gloria del tuo volto al loro canto concedi o Signore che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo i cieli e la terra sono pieni di l'inno insieme il signore ho santo in il Santo, Santo, Santo il Signore non Crimera e la tua donna debolezza debolezza Il Cielo è Sì. Padre veramente Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse, «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse, «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede Amminciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Renni l'amore in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Giancarlo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua... Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, nostro Liberatore, e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire Padre nostro che sei nei geni, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo, così in terra. D'assi oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci inturre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tu ha la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amén. La pace del Signore sia sempre con voi. e con il tuo Spirito. Scappiatevi la pace del Signore. Grazie. 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 Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'anno di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non so di partecipare alla mensa, ma di soltanto la parola di Dio che so sospettare. Signore Gesù, la Tua parola è contestata e la Tua vita non è sempre apprezzata. Facci comprendere quanto sia preziosa la vita, insegnaci a rispettarla e ad amarla dall'inizio alla fine. Donaci col tuo spirito la forza di accettare e affrontare le sofferenze e i problemi della vita quotidiana e rendici sensibili verso chi è nel bisogno. Benedici le nostre famiglie e riportale al luogo sacro di vita. Benedici quei genitori che desiderano figli. Facci amare e non giudicare chi con sofferenza, solitudine e confusione non sente più la vita come dono. Signore, aumenta la nostra fede e facci sentire che Tu sei la vita. Benedici le nostre famiglie e rapida. Il tuo amore si innazia mio vivente Cantiamo con la vita il nostro vivo, amore incontenibile che crea te. Il mio amore, amore incontenibile, amore incontenibile che crea te. Amore incontenibile, amore incontenibile. Al Padre Santo che ha creato il mondo, al Figlio offerto il nuovo sacrificio, a Dio divina grazia che è amore, gloria e potenza. Amen. Grazie a tutti. 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 Un caro saluto. Un caro saluto a tutti voi che ci avete seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. del programma Antonio Ammirati, l'aiuto alla regia Franco Ilardo, Remo Bertinelli che vi ha parlato e la squadra RAI esterna 1 Bologna. Vediamo appuntamento per domenica prossima 10 febbraio con la Santa Messa da Santa Maria Assunta in Trevi nel Lazio. La linea ritorna ora a Rosario Carello per la seconda parte della rubrica a sua immagine. A tutti voi un augurio di una buona domenica. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i supermini pensieri del loro cuore.